Sale il livello di allerta per l'ingrossamento dei corsi d'acqua in provincia di Piacenza. Il Lurette è esondato a Valle di Agazzano e il Trebbia ai massimi livelli di guardia. Tranquilla invece la situazione del Po a Piacenza che resta sotto i 4 metri, ben lontano dai livelli di guardia. Le previsioni meteo dopo le abbondanti piogge di oggi prevedono una tregua per mercoledì e giovedì, in modo che i corsi d'acqua possano sgonfiarsi prima delle nuove piogge previste a partire da venerdì.